Musica Dopo la pausa estiva, l'undicesima stagione concertistica dell'Associazione Musicamente di Palermo riprenderà con sei appuntamenti, in programma tra la Chiesa di Santa Maria di Valverde e l'Oratorio di Santa Cita, tutti con inizio alle 20.45. Il primo sarà domani, 22 settembre, nella Chiesa di Santa Maria di Valverde, con il concerto intitolato Ziriab, eseguito dall'ensemble strumentale e vocale Antonio Ilverso. Le musiche proposte vogliono esplorare l'influenza che la cultura araba ha avuto nell'evoluzione della letteratura e della musica occidentale, a partire dal IX secolo, quando grazie a Ziriab si diffondono in Spagna gli utili tecniche di canto. Nella realizzazione dei brani in programma vengono usati insieme strumenti dell'area araba o turca, con quelli più tipici della musica europea, allo stesso tempo integrando strutture ritmiche e abbellimenti dell'area araba e orientale.